allora benvenuti in questa prima lezione del corso di scalping base di musa formazione in questo corso affronteremo due progetti il primo riguarda la modellazione di lo scalping di un uomo muscoloso diciamo vediamo una reference che è presa dalla da un film con arnold sparsenegger quindi adesso immagini e somiglianza e un po di reference vediamo qui più dettagliato il viso texture e il dietro ok in questo corso utilizzeremo come software di scalping auto the smart box 2019 e partiremo invece da un modello già preimpostato utilizzando un software che si chiama make human quindi un modello base già preimpostato questo software è gratuito potete scaricarlo da google cercando make human e andando sul sito make human community.org download e avete la versione make human 1.2 per windows oppure per mac in questo programma possiamo impostare il modello base innanzitutto utilizzando gender maschile o femminile l'età del modello più anziano o più giovane noi abbiamo visto già la reference quindi impostiamo un'età adulta muscoloso mettiamo anche il peso andiamo a rivedere la reference qui possiamo scegliere del genere se africano asiatico europeo diciamo più o meno così e poi possiamo andare nei dettagli aumentiamo ancora un po il peso ok i muscoli perfetto possiamo andare nei dettagli qui abbiamo genere aumentiamo un po il volume genitali ah no questo è bloccato ok brist diciamo che va anche bene così basata reference diciamo che va anche bene così basata reference col tasto sinistro del mouse possiamo ruotare la visuale questo diciamo è solo il modello base poi dobbiamo enfatizzare tutti i muscoli con malbox appunto e possiamo anche cambiare un po le proporzioni però dobbiamo partire da una base già già somigliante come lunghezza degli arti e proporzione generale ok forse possiamo abbassare un po l'altezza ok 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 Questa è per la faccia, poi abbiamo tutta una serie di dettagli qui per la faccia. Questa è per la faccia. Mi collo. Questa è per la faccia. Questa è per la faccia. Qui dobbiamo fare solamente un lato, poi abbiamo un tasto per fare la simmetria, quindi concentriamoci solo sull'occhio destro. Cliccando questo tasto andiamo in simmetria. Questa è per la faccia. Questa è per la faccia. Questa è per la faccia. Forse dobbiamo arrotondare un po' la testa. Torniamo a head shape. Head size. Su head shape, ok. più rotonda, anche se non riesco bene a fare la forma correttamente potaggio estremo in mudbox. ed è per la faccia. Ok, andiamo sul naso. Ok, andiamo sul naso. Questa è per la faccia. 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 Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Il ginocchio forse è troppo alto. Ok, le braccia, vediamo un po' la lunghezza. Più o meno ci siamo. Forse le mani un pochino più grandi. Ok. Diciamo che come base ci può stare. Facciamo un giro per vedere se è tutto ok. Ok, quando siamo pronti, vediamo qui l'ex che ci dice. Ecco, possiamo accorciare un pochino. E allungare un po' la parte sotto. Ok. Forse le gambe sono un po' più lunghe. Ok. Quando siamo pronti andiamo su file, export, cerchiamo film box come tipo di export. andiamo un nome, man, mascots, andiamo sulla cartella, andiamo su maya project, creiamo una cartella musa formazione, creiamo dentro una cartella sculpting base. nuova cartella, refs, e salviamo qui dentro come man, mascots, fbx. Ok. Quindi clicchiamo su export. dovrebbe aver fatto, vediamo, verifichiamo. Sì, abbiamo sia le texture che l'oggetto fbx. Per le texture vediamo, forse potevamo fare qualcosa. Sì, eh, questo è meglio. Allora, middle age, caucasian male, va bene. Quindi riandiamo su export e avrà solo scritto rete texture. Perfetto. E niente, a questo punto abbiamo completato. Il prossimo passo sarà andare su mudbox, aprire l'fbx. e da qui possiamo cominciare a aggiustare il modello secondo la nostra reference, che poi vedremo come si fa nella prossima lezione. Quindi per questa lezione è tutto. ci aggiorniamo alla prossima lezione. Ciao, ciao, ciao. ? ? ? Grazie a tutti